Asche Ma non ha più la patina in fondo... Ah, ah, adesso non te Arrivo Senza struttante Oh Sei maledetto Dimmi Eh? Eh? Un po' più indietro No 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 fless Era giustissimo Un pelino più indietro col culo La moto deve essere in asse Perfetto Poi dopo te sei un sandrone Sai te sei grosso Poi dopo dipende dalle situazioni La cosa importante è Gamba ok Leggermente piegata Posizione Manubrio Non tirato Ma abbastanza libero Guidata Ginocchia stretta Non vai indietro te No Poi dipende che salita è Perché se è una salita dove Sei secco da una curva E devi aprirlo giù dritto Puoi stare anche seduto E poi tenere la gamba tesa E stare leggermente in piedi Ah di buono Grazie per cazzo Beh là c'è i cavalli Devo Facciamo un po' di riding Col 125 BANGURANG 22 PIGUERA 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 Grazie a tutti. Ragazzi faccio un giro rio. Grazie a tutti. 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 Wow, let's run. Grazie a tutti.